Allenamento HIIT, 10 minuti iniziali di spanca addome, dopo circa 26-27 di HIIT, ma davvero HIIT, e un 3 minuti finali di SWAT Challenge. Lavora come se non avessi bisogno di soldi, ama come se non fossi mai stato perito, balla come se nessuno ti stesse guardando, buongiorno! Cominciamo, spacca addome, via, il primo, crunch piedi a terra, così, molto in relax, si guarda, via, crunch piedi a terra, 30 secondi, così, il secondo è nuovo, si chiama Butterfly Sit Up, ovvero Sit Up, ma le gambe sono a formare un rombo, praticamente, ok? Le due suole delle scarse sono unite, 3, 2, 1, Bando Fly Sit Up! Uh, è più complesso, eh, in serie se è più complesso! Le gambe sono a formare un rombetto! Dai! 12 secondi! Come on! Solo 5! Ci siete? Dopo! Double Crunch! Che buona domenica sarebbe! Prendi uno spacca addome così, alle 10! Ragazzi, qui ci sono le due da 4 ore! Cioè, sono l'azillo! Sono un grillo, ci credo! Sono svegliata alle 6! Ha! Dai, dai! Crunch a libro! Ci siamo? Via! Crunch a libro! Dai, che addome! È tiratino! Ho! 15 secondi! Vi annuncio Che tra oggi e domani Siamo ancora a capire quando Uscirà un nuovo piano Di allenamenti 12 allenamenti Tip Up! 12 allenamenti, dicevo Tonifica, si chiama il piano Pezzi Elastici Bande elastiche 2-3 allenamenti a settimana C'è un'altra cosa che vuoi fare Dai! 10 secondi ancora Poi Unicorn Crunch 3 1 L'Unicorno Dai, dai! 1 L'Unicorno è il pane Ci sono due boccodrilli Ed uno Rando, dando Sempre l'Unicorno Dai, 3 secondi! PAUSA! Siamo a Zilli? PAUSA! 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 La prima sessione di addoni è nata! Facciamo un po' di plank Così PAUSA! 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 Plank classico Ci siamo? 2 1 Vai, plank classico Fermali PAUSA! Non temore! E ragioni Ragioniamo sul pranzo Allora Ieri ho fatto grandi chef Grandi mini Oggi ho delle seppioline In frigo E mi sa che non ho qualcuna Sono seppioline piccole Non mi ricordo se sono già tagliate o meno Nel caso non fossero tagliate le faccio ripiene Ci siamo? Prank dorsale Sul dorso del piede E sto lì In plank dorsale Concentratissimi 15 secondi Dai dai Solo otto Poi Spider plank 3 2 1 1 2 3 2 3 5 5 8 5 8 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 15 16 16 17 15 16 16 17 17 17 17 17 18 19 20 19 20 20 21 Siamo lì, plank e classico, ancora 15, 10, dai 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 dai, 5, 2, 1, pausa, seconda sessione, addome, in saccoccia, manda la terza, fatemi vedere che combinate, come state, ragazzi la salvo, la salvo sempre, tranquilli, tranquilli, siso, verticale, con le mani che forciano le braccia e gambe sul petto, via, dai, così, prima una, poi l'altra, 20 secondi, dopo, tamburelliamo, 8, 5, 1, tamburelliamo, e stiamo lì, dai 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 dai, brucia, so perché, con la brucia, più del sotto, 12 secondi, poi siso, orizzontale, dinamico, 3, 2, 1, a 4 un secondo, siso, orizzontale, in alto, quindi salvo, e scendo, 20 secondi, dopo, lying, leg raise, è un reverse crunch con sollevamento vaccino, 6 secondi, ci siamo 3, 1, via, reverse, sollevo vaccino, dai dai, stiamo lì, stiamo lì, reverse e sollevo vaccino, 10 secondi, poi solo reverse crunch, 5, 1, reverse crunch, dai che manca un minuto, poi l'addome è fatto, dai, state lì, 15 secondi, dopo, circolo, facciamo dei ricerchi, 5 secondi, 2, 1, circolo, da una parte, dall'altra, misere, se lo accuso anche questo, 15, 15, solo 10, dai, so, so, 3, 2, 1, bang, spaccadone, completato, bene, adesso, abbiamo l'hit, stavo dicendo, 45 e 15, 45 di lavoro, 15 di pausa, possiamo cominciare, ogni 4, così siete contenti, il primo, mountain climbers, più shoulder tough, via, 2, mountain climbers, 2, shoulder tough, 2, mountain climbers, 2, shoulder tough, dai, 45 secondi, così, teniamo un buon ritmo oggi, oggi è hit, vi voglio vedere, grondare alla fine, ma grondare per bene, 15 secondi, 10, dai, dai, solo 5, pausa, barbies, 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 così, subito, a prendo, no, 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 eh sì, a quanto pare sì, 3, 2, 1, barbies, dai, 45 secondi, infani, subito, così, e dai, e dai, ve li messi subito, così, poi dopo non ci pensate più, via dente, via dolore, e se lo dice un dentista, va, vale doppio, dai, 15 secondi, poi, solo 10, dai, 5, pausa, 2, drop squat, 2, mountain climbers, miseria ragazzoni, oggi, gli spacco, via, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dai, sono 45 secondi, eh, il ritmo, vediamo anche, di spezzare il fiato, se ne ho un bel casino, 18, dai, ma quanto sono lunghi? 45 secondi, 45 secondi, miseria, finite, 5, 2, 1, pausa, skater, jump, sì, ragazzi, è dura, ci siamo, via, jump, skater, concentrati per bene, se non riuscite a fare il saltello, nessun problema, nessun problema, fate il classico skater, non è jump, ma non succede nulla, basta stare in movimento, ok? Dovete muovervi per 40 minuti, ah, la forchetta, la bocca non è considerato movimento, eh, 10, dai, dai, che ci siamo, 3, 2, 1, avete un minuto di pausa, non male, dai, così potete dare tutto in quei 4 minuti per poi recuperare, in realtà, devo dirvela veramente tu stasso, non avevo messo un minuto di pausa, ma ho fatto il circuito che era un po' rimbambito e ho messo la pausa di 45 senza pensare che fosse un 45-15, per cui la pausa del 45-15 si sommava alla pausa lunga, che diventa un minuto, beati voi, beati voi, ci siamo, mountain climbers, shoulder tap, ripete il circuito, via, 2 mountain climbers, 2 shoulder tap, e 2 mountain climbers, e 2 shoulder, dai, go, il primo è fattibile, il secondo, un po' meno, dai, secondo esercizio, eh, non circuito, dai, solo perché c'è il battis, avrebbe l'avete dimenticato, adesso arriva la matrata, adesso arriva, dai, 10 secondi, 5, 2, 1, pausa, eh sì, sono loro, sono loro, sono loro, sono loro, barfis, 3, 2, 1, andiamo, barfis, hopla, dai che lo tenete, 30 secondi ancora, pensate che i miei primi battis, le ho fatti, a una sparta race, vicino a Firenze, ogni volta che sbagliamo l'ostacolo, parli, gli odiamo, prossima volta che vado da sparta race, sarò prontissimo, pausa, respirate, 2 drop squat, 2 runner run, ci siamo, via, drop, drop, runner, runner, drop, drop, runner, e runner, via, comandiamo, dai, dai, sono, 20 secondi, dai che è il terzo questo, eh, sono 4, ogni 4 c'è la pausa, 4 minuti di lavoro, pausa, 4 minuti di lavoro, pausa di un minuto, 2, 1, pausa, skater jump, ci siamo, andiamo, goliamo, via, skater, e jump, eccoci qua, stavo dicendo, che ho imparato a fare i barfis lì, tra l'altro non avevo mai fatto una sparta race, nella mia prima, è una figata pazzesca, pazzesca, ti sporchi, ti infranghi, ma l'avvicinante, tipo sono arrivato un quarto, nella mia prima, ho detto, beh, potrebbe fare per me, ovviamente, non dei bomber, eh, cioè, dei non professionisti, 3, 2, 1, pausa lunga, respiriamo, respiriamo, è da 20 minuti che lavoriamo, cambiamo gli esercizi, Clio Climbers, Blast Off, il primo, Clio, quindi Clio, 1, 2, 2, Blast Off, ok? Direi ok, devo rimpiantare un po', oggi, sto un pochino accusando, sto un pelo accusando, è bello, è bello così, oggi siete voi che vi provate in fondo, ci siamo? 8 secondi e si riparte, Clio Climbers, Blast Off, 2 Clio, 2 Blast Off, via, Clio, Clio, Blast Off, Blast Off, Clio, Clio, Blast Off, e Blast Off, e ancora Clio, e Clio, e Blast Off, e Blast Off, poi vediamo, eh, qualcuno in questi giorni mi ha chiesto perché, sembra che abbia preso a correre più di prima, spiegazione molto semplice, spero, incrocio le dita, che in primavera ci sarà la possibilità di fare quanti le ha di corsa, spero, uno, pausa, per cui vorrei arrivare, bello pronto, non so ancora che gare faranno, ma una mezza paracona, vorrei fararmela, push up, sollevo braccio, uno solo, push up sul braccio sinistro, push up sul braccio destro, push up sul braccio sinistro, push up sul braccio destro, dai, sempre così, un lato, e poi l'altro, un lato, e poi l'altro, è sempre un push up e un braccio, un push up e un braccio, dai, 15 secondi, tenete duro, se volete anche ci notti a terra, eh, ancora dieci, solo cinque, tre, due, uno, pausa, cosa abbiamo? mountain climbers su cross climbers, come si fa? ginocchio sinistro, che va al vomito, e poi incrocia, e poi il destro, via, stop, 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 è come se fosse uno spider, più spider incrociato, cavolo, il nostro spider, più spider incrociato, eh, uff, infatti è meglio chiamarlo spider, più spider incrociato, non climbers, più cross climbers, cavolo, oh, 15 secondi, guarda i bracci aperti, 8, 3, 2, 1, pausa, leggera da cattore, punching jack, mandiamo sul cuore, ok, 2, 1, via, pugnetti, e piedi che si muovono avanti, siamo attivi, mandiamo sul cuore, mandiamolo un po' su, dai, 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 e ci stiamo lì, e sì che ci stiamo, 20 secondi, tienilo ancora un po', questo manda solo sul cuore, adesso fa bene, dai, dai, 12, spugna, spugna, 5, 3, 2, 1, pausa, di nuovo pausa lunga, dopo ve la scorcio la pausa, mando avanti il timer, va mica bene queste pause, dopo poi, mi riposate troppo, dopo poi mi riposate troppo, mi abituo troppo bene, e non vale, cosa fondamentale della pausa, mandare giù il cuore, rilassarsi, bere un sorso, poco, quando si beve, durante lo sport, mai, una marea, no, non dovete affogare, un sorsettino per volta, basta poco, un sorsetto, un sorsettino lì, lo metti giù, e ripartiamo, plio, più blast off, due plio, cioè sinistra e destra, e due blast off, 3, 2, 1, plio, plio, blast off, e blast off, e ancora plio, e plio, oppala, dai, dai, chiediamo di sudare, che oggi, almeno chi ha, che la sepparti, la consenza, non se la fa, fatto qua io, Carlo, ci penso io, 12 secondi, 12, 12, 12, 12, 12, 3, 2, 1, falda, push up, e il braccio, push up, braccio, 3 secondi, 1 e un braccio, se volete, se la ginocchia, via, push up, braccio, push up, braccio, dai, continuate bene, sempre, 30 secondi, dai, dai, 22, ci siete, sono 15, per fortuna, che ho il mio bel funghetto, in scala, perché, oggi, ce ne pensavo qua, dai, 3 secondi, 1, pausa, uh, cosa abbiamo? oh madonna mia, lo spider, su drop, oggi, sto stanto, mi giustifico, via, spider, su drop, come vedete, anch'io, fa delle giornate, che faccio più fatiche, viate, nelle labili, oh, dai, dai, 22 secondi, ci siamo, solo 15, dai, ancora 10, hop, 5 pausa punching jack facciamo un jumping questo giro mi piace di più jumping jack classico via jumping jack classico e stiamo lì apro e chiudo apro e chiudo dai 30 secondi non voglio mollare siamo più affaticati ma non molliamo 20 dai ancora 8 minuti dopo più o meno solo 10 secondi apro e chiudo apro e chiudo 3 2 1 pausa lunga vedete qual'è il bello del gruppo no? seppure sia virtuale questo è il bello del gruppo saranno capitate giornate in cui facevo una diretta e voi non ne avevate voglia di allenarvi però visto che c'era la diretta hai lo stimolo di allenarvi beh come capita a voi che io do la forza a voi per allenarvi oggi faccio il contrario sono di quelle giornate che sarà il tempo vuotranno dormito poco sarà che non lo so dopo i giorni che ne lo voglia ma il bello del gruppo è che ci diamo la forza quindi ora voi spingete bene fino in fondo 15 secondi 1 un braccio barbis così simpatico alternato barbis al braccio dai hop e al termo sinistro e destro hop dai dai 30 secondi ma vado avanti se non riesco un braccio faccio barbis classico lo abbiamo già fatto ma va sempre bene dai barbis a un braccio eh 10 secondi 5 2 1 pausa questo mi piace molto lancio vado su saltello lancio dall'altra parte molto divertente lancio saltello lancio cambiando la gamba via lancio saltello lancio saltello non è un runner è un lancio vado dritto hop ok il saltello è su quindi non è un vero runner lancio cambiate sempre la gamba con cui fate da fondo eh una parte e poi l'altra basta prendere un po' il ritmo poi diventa easy 5 2 1 pausa mezzo barbis tu squat tu skip e poi vogliamo intercordo un altro mezzo barbis tu squat in piedi skip torno giù mezzo barbis squat skip torno giù so dai eh belli attivi vi voglio è un hit vi voglio tattilli cattivissimi dai 12 secondi 8 tenetelo 3 2 1 pausa mezzo barbis tu plio climbers 2 mezzo barbis 2 plio via 2 mezzo barbis plio plio metto barbis metto barbis plio plio metto barbis metto barbis plio e plio dai cerchiamo gli esterattivi 17 secondi dai non perdiamo la pausa 8 dai dai 3 secondi 1 pausa pausa un minuto poi andiamo gli ultimi 4 di lavoro non restiamo tutto bene dai 4 minuti di lavoro però poi non abbiamo finito non ho detto che abbiamo finito ho detto ultimi 4 di questo ultimi 4 di questo dopo c'è un giochino finale dai ripetiamo barbis braccio singolo proviamo il sorso proviamo il sorso ci siete? 10 secondi dai barbis ha un braccio solo alternato 2 1 via un braccio e poi l'altro e un braccio e poi l'altro dai 35 secondi dai fino in fondo ho ronco il fiato adesso mi sono un po' ripreso faccio meno fatica di prima ho avuto un momento che miseria mi ero aperti dai 10 secondi 3 1 pausa lunge saltello lunge tipo un balletto lunge saltello lunge 3 2 1 via lunge saltello lunge dai che bello esplosivo questo voglio lo voglio esplosivo lo voglio dinamico 45 secondi dai andiamo in fondo nei mancamenti 6 solo 10 5 2 1 pausa metto barbis tu squat tu skip dai che mi sono ripreso ci siamo via coppa metto barbis grande squat in piedi a far skip metto barbis squat skip coppa mettendo il cuore su lo tengo su per su ancora 15 secondi non guardare 10 quasi finito il circuitone 3 2 1 pausa guarda come se nessuno ti vedesse non mi sta vedendo nessuno sono qua da solo giusto? ah no non è così? vabbè tanto sono scemo lo sapete via metto barbis 2 prio prangers sinistra destra questo è l'ultimo poi abbiamo una challenge finale guarda come sto dimenticando il cappellino dai dai 10 secondi 5 dai dai 2 1 bang 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 challenge finale e abbiamo finito allora che cos'è sta challenge finale? è la squat challenge sono 3 minuti 3 minuti di lavoro tutto squat o cose simili non ho il cappellino mi metto la bandana da rambo così vale così come challenge? che è anche abbinata? dai vale è come se fosse il cappellino da challenge dai 3 minuti di lavoro poi in boccia in primo è squat semplice semplice via squat 30 secondi ovviamente non sarà tutto squat sono 6 esercizi differenti questo è il primo 3 minuti di seguito 8 secondi voi jump squat 3 2 1 jump squat dai 30 secondi uccidiamoci così dai ci siamo 15 15 solo 10 10 secondi dai dopo wall sit 3 2 1 wall sit stiamo lì seduti questi 30 secondi sono eterni sono infernali bruciano le gambe dai tienilo sono 12 dopo squat pulsato 5 3 2 1 su un attimo miseria squat pulsato miseria 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 2 pezzi di marmo al posto delle gambe 2 pezzi di marmo squat pulsato dai il prossimo squat 90 squat 90 1 anche qua le gambe aiuto 18 secondi sgrantisco un attimo 12 8 5 dai più duro 2 1 squat poi abbiamo finito squat challenge micidiale micidiale non la ricordavo massacrante 12 secondi ancora dai 8 dai che siamo in fondo 3 2 1 bang 450 calorie frasi molto bellina sono qua con la bandana non fingere di essere saggio ma sì saggio davvero non fingere di essere sano cerca di esserlo veramente 20 6 7 7 7 7 7 8 9